ecco qua compagnera su terra accompagnata con un ospede speciale a kilowatt qui a cortona cometa che ci è caduta come una cometa in questi giorni allora siamo qui per presentare boa che è un salvagente per la felicità una ricerca su quello che è la felicità che ci siamo portati avanti negli ultimi tre anni siamo felicissimi di presentarlo qui dopo aver potuto anche lavorare alla produzione a sansepolcro sempre accompagnati abbiamo fatto la prima poco fa perché col cori di insomma è stato un po un po dura perché abbiamo avuto un po di annullamenti ma siamo pronti è uno spettacolo di circo contemporaneo quindi con delle discipline miste ci vediamo sul palco e a 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